Salve ragazzi, sono AX24 e benvenuti in questo sesto episodio della terza stagione di Pokécraft. Come si può ben vedere siamo in gruppo al nostro Lapras che abbiamo catturato nello scorso episodio, ovvero il quinto. Come vi ho già spiegato appunto nel quinto episodio, questa serie di episodi, che comprende anche il prossimo, dureranno meno del solito, infatti dureranno più o meno intorno ai 15 minuti, perché sono in vacanza, appunto spero stiate passando anche voi delle buone vacanze di Natale e non ho modo di registrare i video, quindi li sto programmando tutti e siccome non sono un nerdazzo che ha 15 ore da spendere al computer, mi tocca ridimensionare i tempi. Abbiate pietà di me e peace. Bene, ora spieghiamo un po'. Cosa stavamo facendo? Dovevamo imparare... Che cazzo fai Lapras? Senti, tu devi andare lì qua, non so quanto ti possa essere chiaro. Eravamo in spedizione, non lo so, per cercare qualche Pokémon. Abbiamo trovato Lapras, abbiamo failato su Piplup, ovvero che l'avamo trovato e mica l'abbiamo catturato. Cioè, abbiamo catturato Lapras alla prima Pokéball e Piplup è morto, che non siamo riusciti a catturarlo, fate un po' voi. Allora, riprendiamoci Lapras e come potete ben vedere, io non lo sapevo, sto trattenendo l'entusiasmo, vi giuro, sto trattenendo le urla di entusiasmo, però quanto pare ho trovato un tempio nella giungla, non l'avrei mai detto. Andiamo a profanarlo. E allora, scusatemi, ma io me lo sento. La sfiga non è mai abbastanza per me, quindi, chi lo sa? Comunque nella giungla è sponato un boss, poi andremo a vedere. Dovrei aver risolto il puzzle. Olè, sono un genio! Io so risolvere questi puzzle al primo colpo, feel like a boss. Abbiamo trovato la piramide, perché no? Ora troviamo il grandissimo, grandissimissimo tempio della giungla. Prendiamoci tre pistoni appiccicosi, a cui non si dice mai di no. Prendiamo anche il repeater, dato che è un oggetto comunque pseudo raro, diciamo così. E ovviamente la redstone che mi serviva per craftare il Pokédex, grazie mille tempio della giungla per essere sponato random. Ora potrò farmi il Pokédex. Dunque, se da questo lato c'è il puzzle, logica vuole che ora qui ci sia la trappola, quindi io mi sposto. Porco Zeus, io me l'ho messo qua e tu mi pigli, vaffanculo trappola. Vabbè, qui c'è un dispenser contenente delle frecce, che fanno sempre comodo. Anzi, in realtà non servono a niente nella Pixelmon. Infatti, che me ne fa? Niente, assolutamente. Qui ci sarebbe tanta altra redstone, e quindi perché non prenderla? Mi si spacca in faccia il piccone. Vabbè, ecco qui, questo è l'ultimo pezzo di redstone. Voilà. Ah, qui c'è l'altra trappola, questa volta però non mi faccio fottere. Ah, ora chi è più figo, eh? Ora ho vinto io. Bene. Altro oro. Ok, questa volta non siamo stati così a botta di culo come l'altra volta. L'altra volta nella piramide abbiamo trovato quattro diamanti, che comunque sono molti. L'armatura per cavalli non la prendo neanche perché è inutile. Cosa me ne faccio io di un'armatura per cavalli? Non ci sono i cavalli nella Pixelmon? Già, geniacci i creatori della Pixelmon. Sì, lo sono, effettivamente sì. Fino a prova contraria lo sono e come. Però dovevo provare a sminuirli. Non lo posso fare, sinceramente. Davvero è un lavoro supremo, un lavoro divino la Pixelmon. E sta a vedere che ora spawna Mew. Guarda. Guarda, io me lo sento, sono troppo sicuro. Sono troppo abituato a questo tipo di delusioni. Lui ora spawna un boss e mi ha despawna in faccia. Sì, perché dovete sapere che non solo non spawna i Pokémon che voglio io. Quando ne spawna uno che potrebbe interessarmi, questo mi despawna simpaticamente in faccia. Proprio della serie, ah, tu vuoi battere un boss? Bene, io despawno. Grazie. Della serie, grazie. Grazie a sé. Grazie che l'hai fatto, guarda perché. Se no, se no qui stavo messi male. Intanto mi si bugga la Night Vision ogni volta che salgo sull'Apras. Ma di giorno non so a quanto possa cambiarmi le cose la Night Vision di giorno. Se ce la famo a scalare questa montagna, vediamo ora di settare diversamente. Ecco, ora rispona il boss, giustamente. Io scendo e rispono il boss. Grazie, eh. Settiamolo su Charmander. Siccome non è poi così raro, non dovrebbe essere un problema trovarlo. Sì, ho appena ricaricato i Chunk, perché mi si era buggata la Night Vision. Poi scopro drasticamente di aver scalato una montagna a vuoto perché il boss sta su quella montagna. Ora giuro che se mi despawna di nuovo, penso che la chiesa dovrebbe avere paura di me. Dovrebbe averne già, però, ancora di più, diventerebbe un fuorilegge, un fiorilegge. Dio buono, è possibile? È possibile, dico io. Che uno non può scalare le montagne. Che razza di mondo è questo? Io vado a fare causa. Vado dagli autori della Pixelmon e dico. Anzi, vado proprio dalla Mojang. Vado da Notch. Anzi, ora vado da Jeb. E gli fo. Senti Jeb, io non riesco a scalare le cazzo di montagne ora. O modifichi la generazione del terreno dell'Extreme Hills, o altrimenti non li vedi più i miei 20€ di Minecraft. Anche se non è che non c'è il soddisfatto rimborsato per Minecraft. Quindi non so quanto possa essere una tattica vincente. Senti, io me la scalo così la montagna. Ok? Ora, qui ci dovrebbe essere un boss. Datemi questo boss che lo apro. Qui, proprio qui dovrebbe essere. Ma mi pare ovvio, quella mi salda a fortuna. Io vedo i boss e poi non ci sono. Vi pare forse giusto questa cosa? Vi pare forse possibile? Due volte, due volte che vedo un cazzo di boss nella mappetta, due volte che non lo trovo. Io non voglio andare sotto terra per trovare i boss. Che me ne frega di andare sotto terra per trovare i boss? Rischio di sclerare. Non voglio tirare l'Apras. Devo buttare questo schifo. Ragazzi, sto male, aiutatemi. Io non posso, non posso deludermi così, autori della Pixelmon di merda. Mi ha appena sfidato un Raidon che è piuttosto forte. Vediamo se mi ganni un miss a sorprendere. E allora sì. E allora sì. E allora sì. Chi è forte ora? Eh? Chi? Cioè? Eri a livello tipo 47 e ti ho ownato letteralmente. No, non mi trollare ancora, no. Guardate lì in alto. Pallino arancione. Ergo. Boss. Ergo mi trollano di nuovo perché al 100% non è che lo trovo io adesso questo boss. Intanto mi piglio tipo miliardi di danno da caduta. E tuttora non vedo alcun boss. O tipo sono i Mega Dragon e i Toverboia che spavano e io non li vedo. O stanno nelle caverne, sono talponi e non li vedo. Il che è molto probabile. Però io ora andrò nelle caverne perché io voglio sfidare le leggi dei boss e andare a trovarli. Prima o poi salteranno fuori se stanno qua sotto o no. Certo che si saltano fuori, sono costretti a saltare fuori. Mi fa saltare fuori io se non saltano fuori. Guarda, guarda quanto sono arrabbiato. Sto andando a prenderli. Sto venendo a prendervi. A che livello sono? Sto a livello 50. Sto arrivando a prendervi. Sto arrivando a prenderti. Guarda, t'ho trovato, figlio di infame. Ora si va di qua e t'ammazzo di botte. Ora vedi che è un mio tuo. Ah, e ora chi è questo bel Geodude Shiny? Anzi non è Shiny, scusatemi. Questo bel boss Geodude. Feraligator, questa è roba tua. Senti, ti fai sfidare? Grazie. Ole, boss Geodude è roba nostra. Dai. Un bel Ice Fire, proprio diretto in faccia. Ah, Sbam, che bella botta. Io uso le vitrocce. Io uso il gelodenti. Io non so quanto sia il limite di pazienza di un uomo. Io davvero non so, non sono sicuro di quanto possano odiarmi là in alto. Io non so quali malefatte io possa aver fatto agli autori della Pixelmon perché mi odino così tanto. perché io pensavo fosse solo una storia triste, io pensavo fosse solo un racconto fatto per far diventire i bambini. Io pensavo non fosse mai successo a nessuno. E invece mi è esploso in faccia un cazzo di Geodude, quasi come fosse uno Shiny. Non è possibile, ditemi che non è vero. Mi esplosi in faccia un Geodude, su via davvero? No. Bastardo. Può esplodermi in faccia così, dai. Sed Axo, again. Che dire, trollarmi è facile, è davvero facile trollarmi alla fine. Ma loro non mi avranno. Possono anche farmi crashare il gioco in faccia. Possono anche farmi fallire tutti i tentativi di cattura di qualsiasi Pokémon su questo cazzo di mondo. Ma io... Io... Forse loro non sanno chi sono io. Sono l'ennesimo coglione che viene trollato dalla mod. Mi è crashato il gioco in faccia. È possibile. Ma che... Solo a me, solo a me capitano queste cose. Io sfido un altro di voi che gli crasha il gioco in faccia dopo essere stato trollato alla grande da un boss Geodude che esplode proprio un secondo prima di essere sconfitto. Talvolta sono davvero convinto che qualcuno mi odi profondamente. Me l'ho dato un contentino, dai, proprio... Non chiedo tanto. Ok, sì, forse chiedo tanto. Un bel Dragonite. Un piccolino Dragonite. In mare aperto mi dicono che si trova Dragonite. Anche mi dispiacerebbe. Anche se poi mi faccio tutte ste pippe mentali quando non lo catturerei mai neanche. Se anche spawnasse un Dragonite. Ora che lo catturo, ciao. Con la mia fortuna penso che finirebbe per fare autodistruzione anche Dragonite. È spawnato un boss. Zitti. Potrebbe essere l'ultimo... L'ultima cosa di questo episodio. Un altro boss. Attenzione. La cosa si fa interessante. Vedo, lo vedo, lo vedo. Boss Sheldr. Meghineon, questa è roba tua. Aspetta, boss rossi mi pare fossero forti, tipo. Ce la fai a sfidarlo? Devi sfidare quello figo. Quello figo, quello figo. È lui. Quello figo, quello figo. Olè! Oh, porca troia. Livello 57. Come lo batto? Razor Leaf. Mamma quanto me la sento. Ah no, giusto. Lui ha la difesa altissima, Sheldr. Serio? Davvero? Scherzi? L'ho battuto davvero? L'ho battuto davvero? Mio Dio! Oh mio Dio! Calmanella. Ah, questo è carino. Duskball? Struggle bug? Che cazzo è? Iper raggio, attenzione. Over poi. Over boia per Axo. Struggle bug? Struggle... Che cazzo, scherzi davvero? Acrobazia. Wild charge. Che mi pare sia sprizzalampo. Buono questo, bello. Oh! L'abbiamo battuto. Alla faccia. Abbiamo battuto il boss Sheldr. Grandi. Grandi rega, ce l'abbiamo fatta. Fortissimi. Vai così. Axo pawna tutti. Quindi ora, siccome si è anche buggato, ne approfitto per... Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta. Siamo dei vincenti, ve l'avevo detto io che non sapevano con chi avevano a che fare. Stavo per lasciare lì il mio drop. Infatti, proprio si dice, non sanno con chi hanno a che fare con uno che lascia il drop di un boss per terra. Niente, ci vediamo nel prossimo episodio. Mi sono divertito in questo. Daxo, anche negli altri mi divertono. In questo intendo come risate, mi sono divertito. Daxo24 è tutto. Ci vediamo domenica prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti.